Presso il Campolongo Hospital, l'inviale della Marina, venerdì 7 dicembre alle ore 11.30, si inaugurerà il reparto UGC Unità Gravi Cerebrolesi. Il reparto è dato di tutte le attrezzature e dei servizi per il trattamento riabilitativo dei pazienti con patologie di particolare gravità. Presenzieranno all'evento autorità politiche e religiose. Il taglio del nastro sarà effettuato dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca.